La voce dell'Agenzia. Rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. Un bentrovati da parte di Biagio Consolo a tutti gli ascoltatori della web radio dell'Agenzia delle Entrate. Ancora una puntata sul 7.30 2017. È la quarta dedicata a questo importante argomento. Questa volta Giuseppe Casino dell'Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ci parlerà della dichiarazione congiunta e le cosiddette spese agevolabili. Bentrovato Giuseppe. Buongiorno. Allora, argomento che interessa sicuramente i coniugi è la dichiarazione congiunta. Ci puoi dare qualche dettaglio? I coniugi possono presentare la propria dichiarazione in forma congiunta attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenzieentrate.gov.it. Cerchiamo di spiegare come funziona. Chi intende congiungere la propria dichiarazione a quella del coniuge, dopo aver compilato la propria dichiarazione deve indicare nell'area riservata il codice fiscale del coniuge che trasmetterà la dichiarazione. Quest'ultimo deve esprimere il consenso alla presentazione congiunta indicando nella propria area autenticata il codice fiscale dell'altro coniuge. Con l'accettazione di entrambi i coniugi le informazioni confluiscono nel 730 congiunto. Ricordo che per presentare la dichiarazione congiunta i coniugi devono essere in possesso entrambi delle credenziali per accedere all'area riservata, devono avere entrambi la dichiarazione precompilata e devono risultare ciascuno nel prospetto familiare a carico dell'altro. C'è una novità che riguarda anche lo status di coniuge, è corretto questo? Sì, in base a quanto previsto dalla legge numero 76 del 2016, il termine coniuge si intendo riferito a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Rimanendo in famiglia, Giuseppe, ricordiamo quali sono i limiti per i familiari a carico? Le detrazioni per i familiari a carico nel 2017, coniuge, figli o gli altri familiari, sono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale e spettano se nel 2016 i familiari hanno posseduto un reddito complessivo pari o inferiore a 2840,51 euro. Ancora sulla dichiarazione congiunta. Lo scorso anno non era possibile ripresentare la dichiarazione online dopo il primo invio. Cosa cambia invece quest'anno? Da quest'anno c'è la possibilità per i coniugi di inviare nuovamente la dichiarazione congiunta direttamente online dopo il primo invio se si accorgono di aver commesso degli errori. I coniugi quindi potranno compilare e inviare una dichiarazione correttiva o integrativa partendo dai dati presenti nella dichiarazione 730 trasmessa. Parliamo adesso di spese sanitarie. Quali sono quelle che troveremo nella dichiarazione precompilata? Da quest'anno il contribuente troverà nella dichiarazione precompilata le diverse tipologie di spese mediche. Sono incluse ad esempio i medicinali acquistati con prescrizione medica, le spese per visita medica generica o specialistica, i farmaci da banco, i farmaci omeopatici, le prestazioni sanitarie e le prestazioni rese da psicologi, ostetriche, infermieri, ottici e tecnici di radiologia medica. Ancora le spese per prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale e i rimborsi per le prestazioni sanitarie pagate ma non fruite. Su tutte queste spese ricordo che è prevista una ritrazione del 19% con una franchigia di 129€. Quindi se le spese sanitarie ad esempio ammontano a 1000€ dobbiamo sottrarre a questa cifra i 129€ di franchigia. Sugli 870€ restanti si applica la detrazione del 19%, quindi l'importo che viene rimborsato è pari a 165€. Quali saranno invece le spese sanitarie che non troveremo nella precompilata? In generale non sono incluse nella precompilata ma sono inserite nel foglio informativo le spese agevolabili a particolari condizioni. Cito ad esempio le cure termali per le quali è necessaria la prescrizione medica, gli interventi di chirurgia estetica che sono detraibili solo in presenza di deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti conseguenti a incidenti, malattie o malformazioni congenite e ancora le spese per assistenza protesica e integrative che necessitano di una prescrizione medica. Per quanto riguarda la frequenza scolastica, Giuseppe, ci saranno delle agevolazioni? Sì, con la dichiarazione dei redditi 2017 è possibile ottenere uno sconto fiscale sulle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie. Rientrano tra le spese agevolabili, per esempio, le spese per la tassa di iscrizione, per la tassa di frequenza e per la mensa scolastica. Da quest'anno l'agevolazione poi è stesa anche alle spese per gite scolastiche, all'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, eccetera, che siano deliberati dagli organi di istituto. L'agevolazione consiste in una detrazione del 19% su un importo massimo di 564 euro per alunno o studente. Resta invece escluso l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici. Ricordo che queste spese non sono inserite nella dichiarazione precompilata, per cui devono essere inserite dal contribuente. Giuseppe, per la dichiarazione precompilata occorre il codice PIN. Ricordiamo allora agli ascoltatori come si fa ad avere il PIN per i servizi telematici. Si può richiedere il PIN attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, oppure ci si può rivolgere a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, compresi gli uffici provinciali del territorio, o ancora per telefono al numero 848 800 444, infine attraverso l'app dell'Agenzia delle Entrate che può essere scaricata sul proprio smartphone. Ebbene si conclude il primo ciclo di puntate dedicate al 730 2017. Ringraziamo Giuseppe Casino, ci ritroveremo nelle prossime puntate insieme ancora per parlare di 730 e ribadiamo ai nostri amici ascoltatori che tutte le informazioni sulla dichiarazione precompilata sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo anche che tutte le puntate della web radio dell'Agenzia possono essere tranquillamente scaricate e condivise su Facebook, Twitter e Google. Ebbene è veramente tutto, grazie ancora per la vostra cortese e attenzione. Un cordiale saluto, vi giunge da parte di Viaggio Consolo e a risentirci.